Anche il re Lela Torre in Piazza San Jacopo nell'ambito dell'iniziativa di Coldiretti legata al mercato internazionale. Proponete vino, olio, farina del territorio? Sì, tutti i prodotti che ovviamente produciamo e confezioniamo noi all'interno della nostra azienda. Produciamo sei vini, essenzialmente sono quattro rossi, un rosè e un bianco, tutti di vitigni autoctoni, farine di grani antichi quali grano verna, senatore cappelli e da quest'anno abbiamo anche una farina che si chiama frassinetto e l'olio di oliva che è probabilmente la nostra eccellenza. Una vetrina importante questa anche per un'apertura ad un mercato nazionale e internazionale. Quali sono le vostre aperture? Noi ci rivolgiamo prevalentemente al mercato nazionale e locale, siamo un'azienda piccola però facciamo una produzione importante e siamo molto conosciuti nell'ambito della provincia e della regione. Comunque abbiamo clienti anche all'estero ai quali cerchiamo di aprire il nostro mercato. Si parla di vino e di olio, lei ha citato clienti all'estero e i dazzi USA potrebbero essere un problema? Sicuramente potrebbero essere un problema questi però diciamo che i nostri vini in Italia, all'estero e in America soprattutto sono molto riconosciuti e apprezzati quindi potrebbe essere un problema ma dobbiamo risolverlo. La qualità si fa sempre strada e anche l'Italia sta riscoprendo che la qualità è una marcia in più del paese. Sì assolutamente, noi puntiamo assolutamente sulla qualità, abbiamo visto che fare prodotti di basso pregio quindi cercare di fare prodotti di basso costo non paga e quindi cerchiamo di usare le nostre esperienze per fare prodotti di alta qualità. Voi siete alla chiasa? Alla chiasa superiore, sì. Grazie. Grazie.